ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR nel video di oggi chiacchiererò un po' e allo stesso tempo faremo merenda insieme perché andrò a mangiare un pacco di biscotti al cioccolato questo qui stavo per andare a fare merenda e ho detto faccia merenda per registro il video e poi ho detto sai che c'è io registro il video e faccio merenda dentro il video quindi non 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 Grazie a tutti. Sono sempre molto buoni i magretti, ho molta fame quindi mi sa che prima mangio e poi il resto non capisco perché ho tutta questa fame perché ho fatto un pranzo abbastanza abbondante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi vi parlerò, vi darò un po' di aggiornamenti però dovrò stare attenta a parlare perché saranno aggiornamenti di più o meno salute, barra estetica, barra corpo comunque. E non sulla mia vita in generale perché a quello ho deciso di dedicare un altro video perché è un periodo di grandi cambiamenti in cui stanno succedendo tante cose. E quindi ho deciso di dividere in due e in questa sezione ho aggiunto anche un po' di heating. Ultimo biscotto. Io li trovo veramente buoni questi biscotti. E sono anche perfetti per l'Smr. e tra l'altro a casa ho anche delle gallette quelle pesoforma ricopertissime di cioccolato che tutto sommato sono buone. Questi biscotti sono molto più buoni di quelle però tutto sommato sono buoni e secondo me fanno un solo perfetto per l'Smr. Ovviamente perfetto. Ora vi racconto tutto. Ora vi racconto tutto. Come aggiornamenti avete già avuto uno spoiler in un altro video cioè quello in cui vi ho parlato di libri, cioè i due cambiamenti principali al momento riguardano i miei capelli. Come i capelli ho fatto il colore due volte quest'estate. Una volta è stata quella seria perché avevo una ricreatività castana potentissima da quasi 4-5 mesi. quindi bella 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 tosta. Adesso ne ho fatta un'altra e ho anche cambiato il taglio, ho fatto i ciuffi davanti. Quindi lo vedete da questa parte che questo è evidentemente più corto e stessa cosa anche dall'altra parte quindi ho fatto i due ciuffi davanti perché i capelli da questo lato qui si stavano totalmente disintegrando, strappando. Si stavano accorciando da soli e a me non piaceva più questa cosa cioè io vorrei avere i capelli lunghi in questa fase della mia vita sono nel primo periodo capelli lunghi però non a costo di averli tutti strappati e rovinati. E quindi ho deciso di fare questa scelta e quindi ho deciso di fare questa scelta coraggiosa di tagliare qui. Questa cosa mi spiace molto perché io da anni mi stavo battendo per un taglio retto, totalmente retto. Soltanto che fare un taglio retto significava ma arrivare a tagliare anche le ciocche davanti significava dover accorciare di tantissimo i capelli cioè appunto portarli tutti più o meno a questa lunghezza qui. Perché appunto si erano tanto rovinate le ciocche davanti quindi si erano accorciate quasi da sole. Poi io sono andata dal parrucchiere e il parrucchiere mi ha accorciato anche a quella destra per appunto risistemare la situazione e ha accorciato un pochino entrambe ecco. E non sono contentissima perché so che adesso se voglio avere il nuovo taglio retto passeranno anni e anni perché appunto non c'è prima che ricrescono queste davanti queste davanti a me non ricrescono è molto difficile che ricrescano quindi prima di poter averli lunghe passerebbero i secoli comunque per il momento li tengo così è stata una scelta ecco su cui ho ragionato un po' un po' forzata comunque poi ho tagliato tutti i capelli in generale infatti sono visibilmente più corti sì visibilmente perché mi arrivavano vabbè sì ho tagliato questo alla fine circa perché mi stavano crescendo da un bel po' li stavo facendo allungare perché appunto mi sento nella mia era capelli lunghi mi sono un po' scocciata perché ho ottenuto per un paio di anni i capelli corti tanto 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 corti e adesso appunto non c'ho più voglia e li vorrei lunghissimi però purtroppo il passaggio non è così veloce poi visto che una delle ragioni per come si rovinano tanti i capelli è che queste gioche davanti sono molto molto crespe cioè tendono quasi qui ad arricciarsi anche quando faccio la piastra e poi prendo umidità oppure se non faccio la piastra ho fatto il botox ai capelli che è un trattamento simile alla cheratina ma non li alliscia cioè toglie semplicemente il crespo e l'ho fatto su queste gioche davanti e basta non su tutti i capelli quindi dovrebbe chiudere le squame mi hanno detto vabbè rendere meno evidenti le doppie punte e quelle che non sono arrivata a tagliare e soprattutto dovrebbe evitare di avere quell'effetto bruttino che avevo prima per cui mi si arricciava questa parte qui e poi ovviamente io la piastravo molto spesso piastrandola molto spesso dalle radici il capello si andava a rovinare ancora di più e quindi questi sono i trattamenti che ho fatto, le varie cose che ho fatto ai miei capelli altro cambiamento importante, ho cambiato occhiali da vista volevo andare dall'oculista ma non ci sono riuscita perché la mia oculista è, non lo so, impegnatissima quindi alla fine mi sono accontentata di fare una visita oculistica dall'ottico e ho scoperto perché comunque volevo ricambiare occhiali prima di tornare a Roma perché per chi non lo sapete sono fuori sede ed ero giù dai miei tutta l'estate e volevo assolutamente controllare la vista perché avevo la sensazione già da un po' di non riuscire a leggere per esempio i cartelli dove lontano, le slide all'università, i binari dei treni, i gate in aeroporto cioè comunque cose utili ho scoperto che la miopia è peggiorata di mezzo grado che non è gravissimo però fa comprendere perché non riuscivo a distinguere le lettere ecco lettere e numeri perché ci vedevo così male e già che c'ero ho cambiato occhiali da vista qual è il guaio? questi occhiali li avete visti nello scorso, appunto nel video libri qual è il problema di questi occhiali che non mi piacciono per niente? ovviamente ci sono andata convinta che mi piacessero la verità è che ho toppato su tutta la linea perché non mi piacciono proprio l'unica cosa che va bene è che sono rosa perché io li volevo in metallo e li volevo rosa ma non va bene la forma proprio per di più sono parecchio scomodi e mi fanno abbastanza male e soprattutto le ho già fatte stringere due volte e comunque la misura non va bene bene quindi questi occhiali non mi hanno soddisfatta per niente però quanto a meno ci vedo molto bene perché all'università e in generale nella vita di tutti i giorni purtroppo non vederci è una scomodità importante a maggior ragione adesso che ho scoperto che la miopia è peggiorata e quindi sto abituando l'occhio a portare, a correggere quella miopia ovviamente poi l'occhio me lo chiede sempre cioè mi dà molto più fastidio il distacco sempre per questo motivo sto provando a iniziare a portare le lentine a contatto le lenti a contatto perché, per come, cosa, eccetera, eccetera io le lentine non le ho mai portate in vita mia per anni ho chiesto alla mia oculista e lei mi ha detto guarda, ti sconsiglio di portarle perché comunque sei mio, beh, ma di poco di solo mezzo grado e quindi piuttosto se non ti piace con gli occhiali non portarle proprio le lentine cioè stai senza occhiali e senza lentine soltanto che adesso essendo passata da mezzo grado a un grado il distacco con la realtà, ovviamente tra la realtà con lente e la realtà senza lente ovviamente è molto più forte e fastidioso e quindi sto provando a imparare a mettere le lentine anche per, ecco, poter stare senza occhiali quando voglio sentirmi un po' più carina perché io, per chiarire con gli occhiali non mi sento bella per niente e non c'è nessuno su questa terra che possa farmi cambiare idea su questo punto e quindi sto provando il problema è che non riesco completamente a metterle e togliere i primi giorni sono andata per quasi una settimana tutti i giorni lì a cercare di farmele mettere, togliere, eccetera, eccetera la sensazione di averle addosso è la sensazione più bella della terra è proprio una bellissima sensazione quella di vederci senza occhiali però a metterle ci metto anni e a toglierle piango dalla disperazione cioè arrivo veramente a piangere dalla disperazione perché non ci riesco a toglierle questo è un grosso problema al momento però appunto io vorrei provarci un altro po' perché comunque non mi piaccio con gli occhiali beh, nella maniera più assoluta proprio non mi piaccio non riconosco la mia immagine con gli occhiali infatti raramente molto raramente mi vedete con gli occhiali durante i video e se io esco con persone miei amici io gli occhiali non li metto se li metto di base se non devo vedere nessuno che ne so, vado a fare la spesa non devo vedere nessuno quindi porto gli occhiali o se che ne so, devo andare all'università devo viaggiare e quindi ci sono delle necessità e io devo necessariamente portarle appunto però appunto la cosa di imparare a mettere le dentine sarebbe significativa per me sarebbe un bel miglioramento nella mia vita il problema è che al momento mi sembra un'impresa impossibile nonostante io ci stia provando da settimane sì, sono migliorata però veramente di poco soprattutto toglierle proprio a me sembra un incubo a occhi aperti letteralmente molto aperti occhi veramente tanto aperti per cercare di togliere le dentine altra cosa che ho fatto che adesso non sarà più così evidente però qualche settimana fa ho fatto uno spiancamento per la prima volta nella mia vita ai dentini e adesso già l'effetto secondo me è meno evidente di prima c'è il video c'è il video eating pizza con il mio ragazzo in cui avevo appena appena fatto lo spiancamento e lì si vede di più qui di meno già sono un po' più dal dottor carbonaro perché è il mio dentista al momento e se volete trovate la sua pagina su instagram così nel caso in cui vi poste curiosi beh comunque ho un dentista abbastanza conosciuto a Catania morale della favola l'ho fatto lì e mi sono trovata abbastanza bene non mi ha dato particolari fastidi però ovviamente una volta che inizio a mangiare di tutto perché i primi giorni non si devono mangiare cose che possono macchiare il dente dopo adesso io noto comunque dei miglioramenti rispetto a prima del trattamento perché sicuramente per me il trattamento le avevo molto più gialli di così però ecco comunque non sono bianchissimi ma ripeto senza faccetti dentali è comunque difficile avere dei denti molto bianchi è naturale e niente queste comunque sono sicuramente più bianchi di prima e di queste sono molto contenta anche perché sto prendendo l'abitudine di sorridere molto di più coi denti e quindi è meglio che siano un po' più bianchi sempre come dentista sempre da carbonaro sto valutando se o meglio io vorrei farlo però non so se posso farlo sto valutando se mettere l'invisalign oppure no che sarebbe l'apparecchio trasparente non le stelline proprio come se fosse il bite però correttivo sto valutando se farlo oppure no perché io ho delle altre problematiche di denti che potrebbero rendere impossibile per me metterlo o meglio potrebbero aggravare altre questioni mie e in tal caso ovviamente meglio non aggravarle piuttosto mi tengo i denti storti però visto che non li ho mai raddrizzati ho portato tantissimi apparecchi ai denti nella mia vita però li ho portati per altri problemi più seri dei denti storti che avevo e quindi morale della favola sto cercando di capire se posso farlo oppure no non cercando di capire intendo che ho fatto una panoramica un telecranio avevo una visita e qualcos'altro che ora non ricordo mi ricordo tre cose ah sì e l'impronta digitale perché ormai l'impronta non si prende più ho capito con una roba vomitevole che si usava quando ero piccola ma è digitale quindi non fa male e non fa schifo e non vi ha voglia di vomitare e quindi su quello aspetto notizie spero buone vedremo alla fine i denti di sopra dell'arcata dentale superiore ce li ho abbastanza dritti il problema sono quelli di sotto però di sopra sono anche un consorriso cioè non troppo traumatico ecco e niente ragazzi non mi vengono in mente altre notizie per il resto tutto bene ho recentemente rifatto le analisi rifatto un check up perché vorrei ecco anche se vi farò sapere come è andata a finire in un altro video nell'altro soccitato video comunque morale della favola vorrei iscrivermi in palestra quindi ovviamente ho dovuto fare l'ecg la visita eccetera eccetera e vorrei iniziare un nuovo progetto su me stessa di nutrizione e allenamento so già ho già i contatti per farlo sto valutando appunto di iscrivermi effettivamente in palestra in realtà ho deciso più che per il sì che per il no tanto che sto facendo il certificato medico però ho fatto già ho fatto già la visita aspetto che me lo mandino appunto vorrei farlo perché comunque vorrei mettere su un po' di peso in forma di massa in forma di massa magra e non mettere peso nel senso mangio tanti dolci in grasso ecco quindi mettere peso in una maniera corretta diciamo cioè in senso non non mettere solo grasso ecco mettiamola così non mettere su solo grasso mettere su peso senza mettere su solo grasso ok quindi no ora mangio soltanto dolci così in grasso ecco e questo è al momento credo almeno dal punto di vista salute diciamo e poi appunto vi registrerò un secondo video in cui invece vi parlo proprio del mio ritorno a Roma della fine della triennale di un eventuale inizio della magistrale della laurea di un sacco un sacco un sacco di cose per questo dico che divido in due video e vabbè che sono tornata a Roma ve ne siete accorti mi sembra auto evidente sempre per chi non mi conoscesse qui ho il bluietti giù non ce l'ho e questa è la mia stanza dove registro sempre diciamo lo sfondo base dei miei video e niente ragazzi io ho detto ciò vi ringrazio vi saluto e vi dico che ci vediamo direttamente in un prossimo video ciao a tutti